Herman Cohen e il ritorno a Kant. Il kantismo a cui si riferivano i pensatori che apertamente sostenevano l'esigenza del ritorno a Kant era ancora fortemente imbevuto di elementi positivistici. È soltanto con la figura decisiva di Herman Cohen che si può legittimamente parlare di neocriticismo o di neocantismo in senso stretto. Herman Cohen vive tra il 1842 e il 1918 e propugna un ritorno al criticismo con una piena consapevolezza. Egli è professore a Marburgo dal 1873 al 1912 e in seguito alla scuola superiore ebraica di Berlino. Cohen esprime il suo pensiero principalmente nell'opera Sistemi di filosofia che si articola in tre parti. Tre parti che con tutta evidenza richiamano direttamente l'impianto kantiano delle tre critiche. La prima parte dei Sistemi di filosofia si intitola Logica della conoscenza pura del 1902. La seconda parte si intitola invece l'etica del volere puro del 1904 e la terza parte infine ha per titolo Estetica del sentimento puro. Fin troppo evidente come dicevo il richiamo al Kant delle tre critiche. Il sistema di filosofia era stato in vero preceduto da tre ampi studi che Cohen aveva consacrato alla filosofia di Kant. In particolare la teoria kantiana dell'esperienza del 1871 che di fatto segna l'atto genetico del neocriticismo di Marburgo. Poi l'opera la fondazione kantiana dell'etica del 1877 e infine sempre di Cohen la fondazione kantiana dell'estetica del 1879. Soprattutto il primo di questi tre scritti intitolato la teoria kantiana dell'esperienza del 1871 merita di essere menzionato. L'opera segna il cominciamento epocale di una nuova chiave ermeneutica per leggere Kant. In particolare Cohen dà avviamento a una lettura in chiave anti-idealistica e anti-psicologistica di Kant. chiave di lettura che, è bene segnalarlo, influenzerà decisivamente gli studi per molti decenni. Nell'interpretare la critica della ragion pura di Kant, di cui preferisce espressamente la seconda edizione, Cohen tiene fermo l'assunto in coerenza con il quale la critica kantiana deve essere intesa come una teoria dell'esperienza. In particolare l'opera di Kant è una teoria dell'esperienza scientifica fisico-matematica, della quale deve garantire l'universalità e la necessità, quindi la validità, dei principi sul piano trascendentale di una fondazione rigorosamente formale. Con ciò Cohen intende sostenere che la critica non ha alcunché da dire sui contenuti del sapere. La critica di Kant si presenta invece come riflessione critica sulla forma del sapere. In questo senso la filosofia kantiana, dice, Cohen è la critica del sistema, dei metodi e dei principi di Newton. Cohen si sofferma particolarmente sul carattere formale, sfumando la distinzione kantiana tra sensibilità e intelletto e presentando l'ichdenche, l'io penso, in termini prettamente funzionali. In tal guisa Cohen elimina il problema della cosa in sé, concepita come un puro concetto limite. E così si spiega perché Cohen preferisca la seconda edizione della critica della ragione pura, quella in cui Kant, decisamente meno peso, attribuisce alla cosa in sé. E quanto scrive Cohen nel primo volume del suo sistema di filosofia? Nel collocarci nuovamente sul terreno storico della critica, noi rifiutiamo di far precedere la logica da una dottrina della sensibilità. Noi principiamo col pensiero. Questo non può avere nessuna origine fuori di sé. Noi qui cerchiamo di costruire la logica come dottrina del pensiero e questa logica è dottrina della conoscenza. Così scrive Cohen, ripeto, nel primo volume della sua opera Sistemi di filosofia. E però quella di Kant è una teoria formale non soltanto dell'esperienza scientifica, ma anche dell'esperienza etica e dell'esperienza estetica. I diversi principi sono pur sempre forme, condizioni di possibilità. La stessa unità della ragione viene garantita in quanto unità metodologica, sicché le dottrine presentate nel sistema di filosofia costituiscono per Cohen uno sviluppo e, se vogliamo dire così, un upgrade, un aggiornamento del pensiero kantiano. Anzitutto Cohen mostra come la filosofia sia una logica della scienza, vale a dire del sapere valido in universale. Essa ha il compito di esibire le condizioni che rendano possibile la scienza in quanto tale. Cohen si richiama alla maniera in cui la matematica costruisce i propri oggetti producendoli e da ciò desume la convinzione che il principio unico e originario della conoscenza scientifica sia il pensiero puro. Il pensiero puro è fondamento e produzione, ma ciò non in senso idealistico alla fichte, ma nel senso in cui in matematica si parla di una X che deve essere determinata. Per Cohen, se la logica della conoscenza pura si riduce ai giudizi del pensiero puro, e questi danno la forma della conoscenza degli oggetti, inevitabilmente se ne deve inferire che vi è l'identità di pensato ed essere. È qui che il pensiero di Cohen massimamente si allontana da Kant, di cui pure egli si propone di essere un allievo. Cohen infatti si sforza per un verso di eliminare la posizione di qualsiasi dato che preceda la conoscenza, e dall'altro si sforza di ridurre il problema della logica alla giustificazione del sistema dei giudizi della scienza matematica della natura. L'influenza di Kant viene così a sovrapporsi a quella di Platone. Nelle opere consacrate all'etica e all'estetica, Cohen estende a queste discipline il tema di una fondazione trascendentale. Per quel che concerne l'etica, Cohen sostiene che il volere puro conduce al superamento della differenziazione fra essere e dover essere. L'imperativo categorico, scrive Cohen, quello che comanda di trattare l'umanità sempre anche come un fine e mai unicamente come uno strumento, non rimane una mera forza morale, deve concretizzarsi nella realtà. Per questo motivo è ineludibile la dimensione politica della socialdemocrazia tedesca. Cohen rigetta il materialismo e non di meno aderisce a una sorta divisione kantiana della socialdemocrazia tedesca, recuperando l'idea che in qualche modo il sistema debba culminare nell'idea di Dio. Con l'ateismo, scrive Cohen, il socialismo perde il suo vertice, come nel materialismo perde il suo fondamento. Con l'ateismo esso diventa in effetti un'utopia. Non gli rimane altra via di scampo che la smania ostinata della distruzione, o nel migliore dei casi, la rassegnazione quietistica. Chi parte dalla verità dell'idea spera nella realtà della giustizia. Tale speranza è qualcosa di più che l'espressione emotiva di una convinzione etica, esse la fede in Dio. Per queste ragioni Cohen, che è un socialista, declina il socialismo in chiave kantiana, rimuovendo l'ateismo e insieme il materialismo. Il suo dunque è un socialismo kantiano che crede in Dio e che fa riferimento a qualcosa che non è il materialismo. Sicché Cohen rigetta il materialismo marxista e contrappone ad esso una specie di socialismo kantiano, come dicevo, che verrà anche criticato aspramente dai marxisti come un socialismo della cattedra, un socialismo di professori che non si sporcano mai le mani nella realtà concreta e nei suoi conflitti. Kant è, ad avviso di Cohen, il vero ed effettivo fondatore del socialismo tedesco, da che impone di vedere negli altri sempre una finalità, un valore che mai può essere offeso e umiliato. Abbiamo quindi con Cohen una vera e propria fondazione kantiana del socialismo, di un socialismo antimarxista, antimaterialista e anti-ateo, un socialismo davvero originale che pur verrà attaccato di essere un puro socialismo della cattedra.